Il 10 agosto, che celebra la notte di San Lorenzo, a Pesaro è cominciato la mattina con l'ipareggiabile sguardo sulle stelle offerto dalla prospettiva dell'astrofisica Marica Branchesi, che è stata ospite dell'ottavo incontro pubblico della Casa delle Tecnologie Emergenti. A Palazzo Gradari, la Branchesi ha tenuto una conferenza sulle sue esperienze e sulle scoperte scientifiche messe in relazione con un percorso condiviso tra creatività e tecnologie emergenti. Un percorso che per l'occasione si è unito all'arte con la mostra di Gioros, ospitata nelle sale di Palazzo Gradari. La cosa per noi veramente interessante oggi è di mettere assieme nei vari casi della CTE, CTE Square, Cultura, Turismo e Engagement, una parte che grazie anche alla Capitale della Cultura, che abbiamo l'onore di avere qui a Pesaro in questo 2024, mette assieme l'aspetto della cultura con quello delle tecnologie emergenti. E avere la professoressa Branchesi qui oggi è un modo eccellente per parlare di scienza, di tecnologia, assieme poi anche alla cultura e all'arte. La professoressa ha avuto tantissimi riconoscimenti, premi e quindi una grande opportunità per la nostra città e siamo ben lieti di poterla ascoltare. Parliamo nel mondo delle stelle, dei pianeti, quindi è molto bello anche il fatto che viene collegato con la tecnologia e la digitalizzazione. Quando noi esploriamo l'universo troviamo delle immagini meravigliose, si provano un po' quelle che sono le emozioni che si provano davanti a un quadro. Il lavoro di scienziato è un lavoro in cui la creatività è importante, capire come osservare l'universo, capire le immagini che ci arrivano e secondo me c'è intelletto e creatività. Dall'unione tra arte e scienza nasce proprio quella spinta verso lo scoprire e quella spinta verso anche nuove tecnologie che ci permettono di farlo. La mostra intanto c'è un accenno di un'atmosfera stellare anche qui a Palazzo Gradari, nel senso che ho comunque allestito una sorta di mini mostra con delle opere che hanno una sorta di gusto così legato anche all'universo, alle galassie. Sicuramente con Maniche Branchese è nata una sorta di congiunzione astrale, nel senso che ho sempre in qualche modo vissuto l'universo come uno spazio che offre degli spettacoli della natura come d'altronde lo sono i dipinti dei macchiaioli. Dunque lo spettacolo della natura avviene anche attraverso il telescopio che ci mostra delle immagini sorprendenti e in questo senso ho cercato di carpirle e inserirle nei miei dipinti. Io sono stata molto fortunata, nel senso che ho partecipato a delle scoperte molto importanti negli ultimi anni, in particolare all'astronomia delle onde gravitazionali, che è un'astronomia nuova. È un po' come quando Galileo ha puntato il cannocchiale per la prima volta nell'universo e ci permette di vedere quello che prima era invisibile attraverso la luce. Nel 2017 ho partecipato a questa scoperta bellissima della fusione di due stelle di neutroni che si sono fuse insieme, hanno emesso l'onda gravitazionale e tutti i colori della luce. E da lì abbiamo fatto tantissime scoperte, tra cui come si formano gli elementi pesanti nell'universo e tra questi anche l'oro. Dalla stima della luminosità di questo oggetto e da come evolve il colore, abbiamo scoperto che in quella fusione si sono formate in peso dalle 10 alle 100 terre di oro. Questo oro va nel mezzo interstellare e da lì si riformano poi le stelle e i pianeti, quindi l'oro che abbiamo sulla Terra è legato a queste fusioni.